Roberto partiamo da RPM Project, di chi si occupa? Allora noi ci occupiamo principalmente di progettazione e realizzazione di locali commerciali, di ristoranti e da diversi anni curiamo anche il campo dell'ospitalità, abbiamo fatto l'hotel Mallot qui a Roma che è un 5 stelle lusso, ora stiamo progettando, è un restyling di un hotel a Taormina, il grande hotel San Pietro, però la nostra storia nasce con la progettazione di ristoranti principalmente su Roma, su Italia, abbiamo fatto anche due importanti locali a Miami, uno proprio nel quartiere di Wynwood e l'altro a Corral Gable che è un quartiere periferico, una cittadina periferica a Miami, questo è il nostro settore. E dicevi che Taormina è un restyling in che senso? Sì, è un hotel importante, storico, è un 5 stelle, ovviamente era un hotel sempre un 5 stelle ma ormai con una storia di altri tempi, ovviamente necessitava di un restyling, di una freschezza nuova e quindi a blocchi stiamo provvedendo a questo restyling, quindi camere molto più attuali, più fresche per un pubblico un po' più giovanile, un po' più moderno, soprattutto abbiamo cercato in questo progetto di portare un po' più di sicilianità in questo hotel che era privo di questi caratteri, quindi colori molto solari, l'ocra, l'azzurro, Mediterraneo, sì, e con mobili un po' più attuali, con esigenze nuove. Il Mediterraneo richiama la luce, una delle domande di queste chiacchiere, queste interviste riguarda proprio la gestione della luce naturale e la progettazione di quella artificiale, anche attraverso la flessibilità e il movimento e anche attraverso le soluzioni tecniche di gestione della luce, come lavorate su questo tema luce? Allora, la luce è fondamentale, diciamo che noi nel momento in cui facciamo il progetto planimetrico, la distribuzione, la funzionalità, già questo elemento deve entrare in scena, cioè non è un elemento secondario ma è un elemento che fa parte proprio della distribuzione e diciamo dà degli spunti per definire gli spazi e altro, ovviamente luce artificiale con la progettazione delle lampade e altro, ma soprattutto la luce naturale, luce naturale che è importantissima ma va regolata perché tramite delle tende, ovviamente il campo tende significa tante cose, cioè apre un capitolo interno, esterno, materiale, oggi poi soprattutto le aziende importanti con cui noi lavoriamo hanno capito l'importanza del design e quindi queste tende non diventano soltanto funzione a sé, cioè di schermare la luce, di filtrare la luce ma diventano elementi proprio decorativi. delle quinte, delle quinte, noi spesso in alcuni progetti anche qui all'hotel Malot e giù a Taormina ma anche in altri ristoranti qui a Roma, usiamo le tende anche come proprio elemento decorativo, non soltanto davanti a una finestra per filtrare la luce ma anche per gestire degli spazi. Nel ristorante comodo qui a Roma, Fontana di Trevi, parliamo di mille metri quadri, un sistema di tende, dato che è un open space molto grande, determina degli spazi diversi a seconda delle esigenze di gruppi, di cene un po' più intime e quanto, quindi… delle partizioni, come in teatro, che ci sono le quinte, le tende, le scende… Sistemi, poi usiamo molto le tende a pacchetto, allora ovviamente le aziende hanno capito quanto il design sia importante in questo e quindi la tenda non è soltanto per la sua funzione ma diventa, ad esempio i cassonetti vengono rivestiti in stoffa piuttosto che in legno, tante cose, di tende ce ne sono tantissimi tipi, scorrevoli, a pannelli diciamo giapponesi, a rullo e tante altre e questo ci permette anche di creare quegli ambienti un po' più soft, un po' più intimi, soprattutto in un ambito della ristorazione e dell'ospitalità che sono fondamentali. La parola chiave per voi nel progetto, esiste una parola chiave che vi contraddistingue o che vi tormenta anche a volte? Allora, ogni volta che vengo qui mi fai questa cosa e io arrivo sempre che non sono preparato proprio perché… E per quello non te lo dico apposta. Ecco, e lo dimentico perché non vengo preparato, la parola chiave è difficile perché è di complessità. No, dico sempre la parola chiave è la prima cosa, ascoltare il cliente, cioè noi ci poniamo sempre di fronte al cliente, lo facciamo parlare e questa è la parola chiave, cioè ascoltare, perché da quel racconto che ti fa il cliente si aprono tanti scenari, tante soluzioni e capiamo dove il cliente vuole arrivare, quindi la prima cosa è ascoltare e poi parte la progettazione, non può partire senza così, a prescindere dalle esigenze del cliente. Grazie. Grazie a te Giorgio.